non sei stanco di doverti inventare sempre tutte ste storie massimo massimo eccolo massimo a me quando mi chiamano col nome di un altro francesco ti giuro mi fai impazzire francesco francesco sommi sommi belle persone le chiavi di casa di mamma se vuoi andare a prendere le tue cose permesso buongiorno sono la nuova vicina io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei una persona come me si vedi alessia vicina di casa un pezzo di ma e dai non mezzo di cazzo dai c'è da fare domenica ti fa di venire a pranzo del mio genitore in campagna lei è mia sorella chiara avevi puntato la ragazzina e invece ti tocca la paralitica quello che sta facendo non si fa dottore quella donna non è stupida ciao ciao è strano sembra che tu sia in piedi io no perché dici così tu adesso vede mia sorella e lì dici la verità sono provato ti giuro non è facile ci siamo in casa per una donna come lei l'ottimismo è che l'amore duri più a lungo possibile per me che arrivi molto più coraggiosa di me è molto più forte ma dire la verità sono io che mi sento una merda capito no tu sei una merda è bello sentirsi amati almeno crederci io a questo non ero pronto non dormo più mi fa sentire un intero e che mi guarda come si guarda una donna